Il consultivo è un consultivo estremamente positivo, ha visto risultati estremamente rilevanti per quanto riguarda un indice della criminalità estremamente ridotto rispetto a quella che è la media nazionale e anche la media regionale, una grande presenza sul territorio da parte delle nostre pattuglie, non soltanto quelle della Questura ma anche quelle delle specialità e un'attività di, mi piace chiamarla, prevenzione nell'ambito di quella che è l'attività della Polizia Amministrativa con un grande numero di controlli a fronte di un moderato numero di sanzioni elevate. Grande attenzione anche per quanto riguarda le fasce deboli per gli interventi che sono stati effettuati, direi anche una rilevante attività per quanto riguarda il fronte investigativo sia dal punto di vista della Polizia Giudiziaria con la squadra MOBI e le squadre investigative dei commissariati ma anche per quanto riguarda l'attività della parte della DIGOS, per quanto riguarda l'attenzione sulla prevenzione di attività terroristiche. Ma anche questo, l'attività della DIGOS non la voglio limitare solo a questo, ma anche per quanto riguarda l'attività di prevenzione con il controllo delle tifoserie che è stata un'attività estremamente rilevante che ha coinvolto l'ufficio. Un risultato estremamente positivo per quanto riguarda i servizi al cittadino e anche la tempistica dei passaporti. Siamo veramente una eccellenza a livello nazionale, siamo e lo dico in relazione ai miei colleghi che mi hanno preceduto perché ho dato un contributo assolutamente minimale a questa attività.